Vada! Quando abbassi le luci Quando abbassi le luci facciamo l'amore! Sì, diciamo che no Allora, guarda il braccio più penebroso del 2023 Quasi del 2024 Come stai? Bene, tu? Bene Passato bene il Natale? Sì, tu? Ho mangiato? Troppo Tanto? Cioè, tanto A me hanno fatto riso e pollo in Natale Eh sì, vabbè, dai vai a cagare, va Dai, anche te avrei mangiato qualcosa Sì Sì, sì Poi ho in Friuli incredibile Cioè, ogni seconda è un momento buono per bere Ma anche i miei genitori a pranzo non mi puoi dare il vino Eh, ma è così Così è un cazzo Non si può vivere così Ricordi anche a quando ci siamo beccati coi tuoi a... A Verona? No Sull'ago di Garda? Sull'ago di Garda Eh Cazzo era, a mezzogiorno via, a Sprint Sì, ma anche a casa, un bicchiere di vino bianco, rosso, così Infatti io Ti hai mangiato? Di tutto Roba alla zucca, risotto, lasagne Vincchio risotti Mamma mia Affettati all'inizio, secondi gamberetti Sì, sì, tutte quelle cazzate Giusto così Panettoni Sì, anche Dolci Un po' di qualità, come quelli che abbiamo assaggiato noi Però... Eh, vabbè Mangia tutto Fuori tutto Si si accontenta lo stesso Amici, oggi siamo tornati Scusate questa digressione sul Natale, ma ci stava Siamo tornati con una reaction Anche questa da un po' di tempo che non la portiamo E... Sono di foreste e boschi Sono degli incontri che queste persone hanno avuto con... Non ci sa chi Non si spoilera Ah, proprio... Eh, ci sono... Solo foreste e boschi oggi Sì, sì Buona visione C'è anche quello lì... Quale? Falling Angel No, quello non c'è Come hai fatto a ricordarti il nome? È un passo in avanti questo Si vede che è un tuo buon proposito Che è il 2024 Il 2024, ricordarmi i nomi Vediamo amici, vediamo cosa succede Ovviamente aspettiamo sempre le vostre considerazioni qui sotto nei commenti Anzi, abbassate le luci anche voi a casa E godete magari questo video prima di andare a dormire Così non dormirete Questo è il video giusto per la notte Esatto Ma cos'è che ti spinge nella vita a dormire da solo in una floresta, scusami Dentro il tuo cazzo di camper lì Di furgone Sto la pazzia Dai Te le cerchi Ti sta bene che ti succedano ste cose Ti sta bene Ha sentito che c'erano i passi di una persona Attenzione, vediamo I'm currently sleeping in the back of my truck right now I don't even know what time it is And there's someone walking around my truck Right now If you can hear that It's pretty È un rumore di passi tipo Come mi sento? Sento tipo Questo sarà lui No, questo è lui Il problema è che sono le due e trenta del mattino E quello è il problema Ha bussato? Ha bussato E poi era lì da 20 minuti, ha detto Inizio parco Male così, eh Ma a me viene un infarto Anche se sei dentro al camper Ma più che altro sei in un luogo veramente appartato Che cazzo vuole sta persona che ti viene a bussare di notte? Apri Apri Cosa faresti tu? Urlerai spaventandolo Sì? Tipo Io accenderai il camper Eh ma lui si è messo a dormire dietro Non era neanche nel posto di guida No ma non era proprio un camper Era una sorta di Do chiama truck Tipo di furgone Di camion, capito? The back door's locked I've never been scared From wherever I don't think he knows There's anyone in here Consistente però, eh Io penso che sia uno di Sai uno di quei fuoristrada americani Col cassone dietro Lui si sarà messo dietro a dormire Quindi è anche un po' fottuto Non era magari un coso? Cosa? Un picchio? No Un orso Può essere anche Così delicato Ah fa più forte Cioè una volta ci può anche stare Però non è che riesce a regolare la forza Come un umano Sì per fortuna che è chiuso Quindi veramente nessuno può entrare Però Vedi qualcuno Ha fatto così per vedere Che cazzo ci fosse dentro Cosa ha fatto? Eh con le mani Ha cercato di togliere la polvere Per vedere cosa ci fosse dentro Ma scusa Lui aveva tipo le tendine Sì avrà avuto le tendine penso Um Handprints there A lot of scratches Stuff like that Um Ci sono dita umani Sì un umano Che cazzo ci faceva lì questo? Uh Dragging his finger on my side of my truck Uh Well looks like to be Trying to get inside Ho provato anche a aprire Ho provato a aprirla di brutto eh Magari voleva rubare Magari voleva rubare Ma il problema è che mi sembra strano Che secondo me quello fuori Ha ipotizzato ci fosse qualcuno dentro Perché se no non ti metti a bussare Beh sì No? Ah prima Magari riconosce che è una roba Dove uno può dormire Tipo stile campeggio capito? Chissà che cazzo gli voleva fare Sono tutti fuori di testa Sì sono fuori di testa Meno male che non è successo niente Come quella volta là Che abbiamo esplorato le navi Che avevamo trovato tutte le impronte Sulla mia auto ti ricordi? Le navi con Matt Le navi abbandonate Cosa avevamo trovato? Mi ricordo Ti ricordi che la macchina L'avevamo lasciata sotto quel cantiere Pieno di polvere E poi quando siamo arrivati lì Era pieno di impronte Di persone che avevano cercato Di aprirla è vero La stessa cosa Solo che noi non eravamo dentro Praticamente Bastardi Bastardi Prossimo ragazzi Andiamo al secondo Vediamo O il secondo ti piacerà Sì Perché forse l'hai già visto Però volevo tenerlo Vai Perché non è un incontro umano Come non è Allora è Falling Ninja Sicuro lui No Sì Voglio anche sapere tu Cosa faresti poi In una situazione del genere Attenzione Questo video è proprio anche Diventato virale Sul web C'è questo Che cammina in mezzo La foresta E trova un cucciolo Per ora Per ora Due sono E non l'avevi visto Ma è sempre un cucciolo Sì È perché lei Viene qui perché c'è lui Madonna ma quanto è mimetizzato Quello lì Anche perché lui Viene verso il tipo Non si sa perché Per quello lei schizza Guarda Sì sta fermo No no Adesso viene qua Cerca di cacciarlo con le urla Madonna ma Cosa fai qui Beh lui ha fatto bene perché dicono che non devi mai toglierli Lo sguardo Cioè se ti giri Ti salta addosso E poi se ti arrampichi Lui ti prende Sicuro Figurati Sei spacciato Se termina una roba del genere Non è come si sposta di lato Sti gatti bastardi Poi ogni tanto faceva Lo attaccava Guarda Lo faceva tipo Sì si come guardava più vicino O forse un altro video No 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 Guarda I cuccioli li ha lasciati indietro Saltava così No Kyle is left in a standoff with the cougar As he slowly backs away Trying to scare it off with loud noises But the cougar continues to follow him And at times even lunges at him At one point Kyle turns his head away from the animal So as not to trip as he's backing up This prompts the cougar to try and attack Getting within only feet of him Go away No Madonna Però si vede che Secondo me Ovviamente lì sarei in panico pure io Però lo sta intimorendo Se no l'avrebbe già attaccato Sì Lo sta proprio intimorendo per allontanarlo Però l'ha inseguito tanto Sì Dude No go away Go away No Guarda 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 che denti che ha Dai Rimando indietro Ti ammazza questo No Che puoi fare due balzi E c'è arrivato attaccato Sta peggiorando la situazione Com'è che ne è uscito questo E a un certo punto si gira Vai indietro E anche bravo a continuare a filmare È perché si è allontanato troppo dai Mica ma è scappato proprio Che culo però Magari avreste provato a lanciare i sassi? Sì Forse i sassi sì Però si sarebbe magari incazzato ancora E gli ultrasuoni? E cosa dove li trovi? Fischi Forte Non so fischiare con gli ultrasuoni Non sono ultrasuoni comunque Però è devastante se te ne trovi uno eh Figo anche Deve essere un'esperienza Se ne esci vivo Perché poteva finire in centomila modi diversi Sta storia Sì Bello bello Ci stava Anche se non era una roba horror Comunque era un incontro L'ultima volta ho visto Mi è uscito su Non mi ricordo su Instagram Una cosa Uno di un orso Ah che Grottacca Ah lo attacca proprio E lui Se fai conto Li salta addosso Lui lo spinge giù E poi fa quel fuori Wow Madonna Non so come ha fatto sopravvivere il tipo Neanche Reven Lì quello là di Leonardo Di Caprio Di Leonardo Di Caprio Andiamo avanti amici Andiamo avanti con il terzo Scrivete qui sotto nei commenti Voi in questa situazione Che cosa avreste Che cosa avreste fatto Io lo avrei Tutti in te Sì bravo L'avrei carezzato Sì In februari of 2013 A few residents of a neighborhood In northern Oregon Filed reports Of strange noises Coming from the forest The noises were described As what sounded like Eerie laughter It was loud And echoed throughout The nearby area Attenzione Questo quartiere sente Degli urli strani Provenienti dalla foresta Una sera Vediamo Ma è una risata O cosa Sembra una scimmia Ma non è una scimmia No è una risata Sembra una risata Sembra Di un clown Sì perché noi siamo abituati A quell'immaginario Eh sì Potrebbe essere Qualc'animale Potrebbe essere Però così Lì per lì Potrebbe Sembrare veramente La risata Di un sadico Di un pazzo Dicono O una volpe O un coyote Eh sì No l'ultima era Troppo veloce Però Cazzo Se sono scesi Comunque vuol dire Che era una delle prime volte Che sentivano Una cosa Ti viene un po' Il cago Vabbè Andiamo avanti amici Con il quarto 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 e poi quinto Qui abbiamo proprio la prova Che questo video È stato pubblicato Da sta tipa qui Che appunto Documenta la sua vita All'interno del suo van Vedi anche lei E questa volta È un po' Non è possibile Mentre Vedi Sirene Vedi Vedi Lei comunque ha cercato Di interagire In preda Dal panico Dicendogli Ciao E non ha risposto questa persona fuori? Non c'è... Come, come, come... Sono curioso. Dai coglione stronzo demente. Mi ho fatto cagare addosso, bastardo di... Ti giuro, mi hai fatto cagare addosso. Sta bene. Ti sta bene. Hello? Lei? Lei ha risposto questa volta. How can I help you? Sì, col cazzo, caprivo. Una domanda per te. A parte che mi sono venuti i brividi. Una domanda per te alle 4.30 del mattino. Ma che cazzo? Ma questi sono pazzi. It's 4.30 in the morning. I don't feel safe. Who are you? Dai, questo, questo è un pazzo che ti vuole fare del male sicuro. She got up and went to the front of her van to look outside. In the distance there were headlights. The car backs away and so she turns the camera to herself and begins explaining what just happened. C'era la macchina di sto tipo lì, lì? A few minutes into this and she hears footsteps again. Non ci credo è tornato. Pazzo questo. Anche coraggiosa la tipa, eh? Yeah, somebody was just here again, three times now. The third time I looked out, they were walking on foot. I've seen them walking and they hit behind the, the, uh... Secondo te, questi quelli che fanno queste cose qui, essendo l'illegale, c'è una pistola così non si sa mai per difendersi. Qualcosa, un'arma, dai, per dormire così da solo in la foresta secondo me sì, soprattutto in America. in America. And then they went to, um, a car, the same car. Ma lei dov'è tutta sta lucidità di raccontare quello che sta succedendo in quel momento? It was here earlier, well that was back, and then it backed away and left again, three times in one night. This time, um, they didn't knock though, they were just walking around. I could hear them walking around the van. When it got light outside later that morning, she got out of her van and found footprints all around it. So I come out this morning and you... Ma scusate, ma che impronte sono poi? Giganti. Ma sono enormi! Footprints, look at this one, this is mine, I'll show you, there's mine. See, they were actually, there's some more, look at that. They came here, they were standing here, as you can see. A lot of viewers believe the man was simply trying to steal valuables from the van, but why then come back two more times after you heard someone talking from inside? It's likely the man had worse intentions. Infatti, non è uno che vuole derubarti questo. È uno con altre intenzioni proprio. Torna, non risponde, ma è un pazzo psicopatico. Brutto, non so se ti succede una cosa del genere, eh? Cosa fai tu lì? Veramente? Boh, io accenderei la macchina. Eh, se riesci a metterti alla guida, a sto punto io accenderei la macchina. Cazzo stai lì. Vado via. Ultimo! On September 6, 2016, a Reddit post was made linking to a video that claims to feature a weird noise from the woods. Anche qui, sentono un rumore dalla foresta, sempre, provenire da una foresta vicino casa. Included was text that read. I put the kids to bed tonight and heard this loud, really bizarre sound coming from the woods outside my house. It lasted about 15 to 20 minutes. We have a handful of neighbors nearby, but this was too loud to be coming from them. Quindi questo è proprio la scritta online, sta cosa, sta testimonianza. Che aveva appena messo a letto i bambini ha iniziato a sentire sti... ste cosi. Dice che praticamente sono dei suoni che potrebbero provenire da una stazione radio, ma poi lui si chiede, ma scusa ma le stazioni radio fanno questi rumori? Sentiamo di che rumore si tratta. Questo è il video. Che c'è gli alieni? Sicuro? Non sembra un suono terrestre, comunque. Cazzo è? O è il canto di qualche uccello strano, con delle frequenze? Con l'autotune, porco di cazzo. Sembrano veramente delle interferenze radio, robe così. Commenters immediately started speculating what the sound could have been. One of them suggested it could have been the sound of high winds passing through a nearby cell tower, the metal on metal being what created the eerie tone. Qui hanno detto che potrebbe essere il vento forte che passa attraverso sta cosa, sta... torretta del cellulare, quelli ripetitori tipo attraverso il metallo, che fa sto rumore qui col peo. Se non c'è vento non ne vedo. No, infatti, non sembra ci sia vento. Piaccia. Non ho capito un cazzo di quello che ha detto. Carbon, steel, metallo, sempre. Non lo so. Non so che cosa possa essere. Aiutateci voi, scrivetelo qui sotto nei commenti che cosa potrebbe essere sto suono. Di questo mi cagherei addosso. Sì. Di questo veramente tanto. Anche perché il vento non ce nera. Guarda gli alieni quando atterrano. Avresti coraggio di andare a vedere? Come? Quando atterrano. Quando atterrano e poi aprono quello per scendere. Sì, vabbè. Su Dragon Ball l'hai visto. Ma tu andresti a vedere dentro? Non lo so. Da solo, non da solo eh. Da solo no. Con qualcuno dai. Io sarei comunque curioso. Due, tre sì, ma da solo quel cazzo. Ma come non andai a dormire? In mezzo al bosco. Cioè, andrei a dormire se avessi un camper. Un camper ma con qualcuno. No, anche da solo. Da solo. In un posto apposito. No, io no. In mezzo alla foresta. In mezzo alla foresta mai. No, ma... In un campeggio. In un campeggio o che cazzo? In una prateria in mezzo dove... Ma sai che ci sono anche proprio parcheggi? Sì, non lo so. Io non so. Non mi senterei sicuro comunque sinceramente. No. No, sinceramente no. Dada, bello questo episodio eh. Grazie. Non è uscito nessun mostro però. No, tutte cose comunque reali. Sono sicuri di questo. Ragazzi, noi vi ringraziamo, vi salutiamo, ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.